Secondo voi, come si può ridurre il tempo di attesa dei passeggeri al controllo bagagli aumentando al contempo la sicurezza? Per fare questo ci sono i TRS, sistemi di ritorno vassoi, che permettono di gestire automaticamente i vassoi dei passeggeri riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di persone che possono passare attraverso il controllo dei bagagli garantendo al contempo che il bagaglio sia sempre gestito nel modo corretto e quindi direzionato o al controllo di secondo livello oppure restituito al passeggero. Vi spiego brevemente come funziona. Il bagaglio viene inserito in un vassoio, passa attraverso la macchina raggi X che lo ispeziona attraverso un sistema di diverter può essere deviato al controllo di secondo livello qualora ci fosse un allarme oppure restituito al passeggero che prelevati i suoi oggetti lascerà che il vassoio venga riportato attraverso un pozzo nella parte inferiore dell'impianto dove verrà sanificato e riportato in testa alla linea per essere disponibile al prossimo passeggero. Visto quante cose si imparano a seguire Gilardoni?